La giornata albanese alla Fiera del Levante, celebrata con l'intervento del sottosegretario Benini e del presidente del Consiglio Berlacci, accompagnato dai ministri albanesi dell'interno e dell'istruzione pubblica e da numerose altre personalità italiane e albanesi. Nel magnifico padiglione gli ospiti hanno potuto ammirare, messi in evidenza, gli sviluppi dell'Albania rigenerata dal fascismo, oltre all'interessante documentazione merceologica qui raccolta. A Castello Svevo i ministri e i loro seguiti hanno inaugurato per l'occasione il primo concorso d'arte nazionale Premio d'Albania, organizzato per la valorizzazione degli aspetti artistici del paesaggio della vita albanese, quali fonti di ispirazione nelle opere di pittura e per maggiormente cementare i vincoli che legano indissolubilmente Bari all'Albania.